Ovviamente condividiamo la pena di questi giorni del Presidente su questo fatto che è un fatto assolutamente condannabile, un fatto scelerato. È stato un atto molto cattivo e molto vile. Noi prima di tutto siamo uomini e poi siamo rappresentanti delle istituzioni, per cui è stato progettato a tavolino qualcosa per andare a colpire con una precisa indicazione la trasferta a Roma insieme ai sindaci. Questo è assolutamente condannabile. Noi come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere prima di tutto di mantenere i toni composti, toni caldi, pur nelle diversità, pur nelle discussioni, ma per costruire e non per distruggere. Io l'ho saputo nelle prime ore della giornata, quando eravamo in partenza per la trasferta a Roma e questo sicuramente ha reso ancora più difficile l'impegno e il lavoro a Roma, del Presidente e anche di tutti noi. Per cui spero che i rappresentanti delle istituzioni prendano le dovute distanze e imparino a affrontare i problemi che ci riguardano, che sono problemi della quotidianità, con toni più bassi e con più volontà di condividere e di collaborare. Sì, noi continuiamo nel progetto che è il nostro, un progetto di coordinamento al tavolo delle istituzioni, con il tavolo del prefetto e di tutti quei sindaci che vogliono condividere in modo assolutamente libero il progetto per affrontare questo problema che sta invadendo i nostri territori. Noi non abbiamo la soluzione certa in mano, ma vogliamo insieme ai sindaci, insieme al prefetto, insieme al Ministro, insieme al Governo, trovare soluzioni che siano soluzioni il minor pericolose per la serenità e l'incolumità della nostra gente e dei nostri territori. Quindi lasciare da parte la politica e trovare soluzioni concrete? Assolutamente sì, la politica, cosa vuole? Le sfumature e le diversità politiche in tematiche così importanti per la vita di territorio come questo devono essere messe da parte. Bisogna concertare un progetto serio e condiviso e che sia realizzabile dal giorno dopo, quindi da domani. Per cui le chiacchiere, i proclami e parlare alla pancia delle persone, in quelle tematiche delle persone fa più piacere sentirsi dire, non serve a niente. Noi dobbiamo costruire progetti seri.